Sicurezza per le pazienti, per chi lavora e per le famiglie. Miglioria dei servizi e rispetto delle direttive. Su questi tre principi si basa la dura, durissima presa di posizione dei sindacati per evidenziare i problemi del punto nascite di Asiago. E così, per la prima volta, tutte le sigle sindacali si sono unite per far scattare lo stato di agitazione del personale. Ultimamente, le ultime assenze hanno portato ad avere delle carenze importanti di personale e mettere a rischio la dotazione organica. L'attuale organizzazione, basata anche sui turni di pronta disponibilità a carico del personale di Bassano e Sant'Orso, mette a rischio il raggiungimento della struttura ospedaliera di Asiago in maniera tempestiva. E l'ULS7 che cosa fa? E la Regione? Dall'azienda sanitaria arriva una parziale risposta. Per giunta tardiva, fanno notare i sindacati. Il punto nascite di Asiago è riaperto da luglio 2021. Da quel giorno l'amministrazione ha sempre garantito ai lavoratori che la situazione di rotazione del personale sarebbe stata temporanea. Doveva dunque essere una situazione temporanea. Invece sono mesi, mesi e mesi che si va avanti così. E l'assunzione di 5 ostetriche non ha minimamente risolto i problemi. Le assunzioni deliberate devono ancora essere chiamate, quindi devono accettare effettivamente l'incarico presso la sede di Asiago. Riteniamo che comunque 5 persone sia un numero insufficiente. La dotazione dovrebbe arrivare almeno a 12-13 persone sulla sede di Asiago. Questo a garanzia della sicurezza dei nascituri, delle partorienti e a sicurezza dell'applicazione di tutti i protocolli. Le problematiche tuttavia non finiscono qui. I sindacati parlano apertamente di mancanza di equilibrio e di difficoltà per chi lavora e per le pazienti nell'instaurare quell'imprescindibile rapporto umano necessario per il buon esito delle cure e dell'intervento. Questa mancanza di equilibrio anche con l'equip medica, che non è sempre la stessa, che ruota continuamente perché c'è presenza di liberi professionisti, gettonisti, porta a una mancanza di tranquillità per le operatrici che si trovano a collaborare con dirigenti medici che non sono sempre gli stessi ed è difficile trovare anche una certa forma di intesa.